L'autopsia di oggi eseguita dal dottor Giuseppe Calvisi darà qualche risposta in più e certa sulla morte di Paolo D'Amico, il dipendente dell'SM di 55 anni, trovato morto, ucciso, in casa sua domenica pomeriggio, con colpi in testa e coltellate al petto. Soprattutto si vuole capire se la morte è avvenuta sabato o domenica. Un delitto che sarebbe avvenuto intanto fuori dall'abitazione, sarebbe stato poi trasportato il cadavere in garage e per questo si ipotizza la presenza di più persone sul luogo del delitto. Ma sul bovente, alla base dell'omicidio, le piste sono diverse e si indaga a tutto campo. Ieri il sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli e i carabinieri del nucleo investigativo si sono recati nuovamente alla villetta ubicata in una zona che ricade nel comune di Barisciano e si stanno effettuando delle perquisizioni domiciliari in alcune abitazioni in città. Tutto sotto la guida del tenente colonnello Cosimo Petese e del maggiore Edoardo Comandè. L'uomo è descritto da tutti come una persona dal carattere introverso, riservato e silenzioso ma si stanno scandagliando tutte le sue frequentazioni anche risalendo a persone che ultimamente avevano avuto dei contatti con lui per dei lavori edili alla casa. E proprio su questo si scava. Alla base dell'omicidio potrebbe esserci una lite finita male per soldi o debiti oppure le piantine di marijuana trovate a casa del damico possono avere qualche collegamento con la sua morte? Domande ancora aperte ma nella villetta si cerca un DNA e sono stati prelevati degli oggetti di damico, compreso il telefono. Si scandagliano i tabulati telefonici e anche i conti correnti bancari e soprattutto essendoci nei pressi della strada di accesso alla villetta un'azienda si vuole verificare se le telecamere possano aver ripreso movimenti strani. Del resto quella stradina è poco trafficata conduce all'abitazione di damico abbastanza isolata e anche difficile da raggiungere con pioggia e fango.